Fidu adesso riposa in quest'urna. Le sue spoglie sono state incenerite. È nata in Sicilia, a Catania, la prima azienda che opera nel settore della cremazione di piccoli animali domestici. Si chiama CremaDog ed offre ai proprietari di cani e gatti la possibilità di dare l'ultimo saluto a loro amica Quattro Zampe e poi di custodire per sempre in casa le sue ceneri. Un'idea che si rivolge anche a comuni e veterinari, nata dalla passione per gli animali di un intraprendente imprenditore. La legge vieta, pochi lo sanno, il seppellimento di cani e gatti che dopo la morte andrebbero trattati come rifiuti speciali. Da qui il progetto di che è importato in Sicilia il forno crematorio per animali esiste già in altre regioni italiane. Ho conosciuto CremaDog in Francia, ho lavorato per loro e poi ho deciso praticamente un giorno al mio rientro in Italia di poter sfruttare questa idea perché sondando il mercato ho visto che questo tipo di servizio non c'era. Mi sono reso conto che comunque questo servizio era necessario soprattutto rispetto alle norme igienico-sanitarie che comunque noi sappiamo benissimo che in Sicilia vengono a mancare. CremaDog si occupa del ritiro a domicilio con questo furgoncino appositamente attrezzato delle spoglie e fissa a suo appuntamento l'incenerimento che avviene in questo alto forno che raggiunge 850 gradi di temperatura. I resti poi custoditi in un'urna cineraria saldata vengono restituiti ai proprietari che così potranno avere con loro il cane o il gatto che non c'è più. Sappiamo benissimo che un animale che ci ha sempre accompagnati e che addirittura animali che crescono assieme ai propri figli diventano parte integrante della famiglia. Perciò secondo me dovrebbe essere naturale poter dare una fine degna dell'amore che ci ha dato agli animali che ci lasciano.